I chilometri di ciclabile già finanziati sono circa 32, quindi la partenza sarà già iniziato, il lavoro sulla ciclabile lungo il fiume di Via Gradara, quello che ci porta in zona largo Ascoli Piceno, è un lavoro di illuminazione che avevamo già previsto lo scorso anno. Nel frattempo un'altra ditta inizierà i lavori per rendere definitiva la ciclabile su Via Ponchielli, quindi quel tratto che adesso vedete con dei guardrail sopra il fiume, diciamo che la ciclabile di congiunzione tra i quartieri di Tombaccia e quello di Villa San Martino. La stessa ditta ha in appalto anche il completamento del tratto ciclabile in zona celletta, quindi questi sono i primi tre lavori che partiranno, quello invece che partirà in primavera sarà la ciclabile di Via Fratti, a Marche Multiservizi terminerà i lavori e contiamo di terminare entro l'anno anche la ciclabile di Colombarone, la famosa ciclovia adriatica che da qui alla primavera dovrebbe andare in gara, e poi non sarà un lavoro complicatissimo dal punto di vista della realizzazione, è stato più complicato dal punto di vista burocratico come succede spesso. Ecco, in Cattiera ci sono anche poi dei piani che vanno oltre il comune, anche con accordi mi sembra con Fano e Monbaroccio. Sì, quello è un tavolo che abbiamo aperto assieme a consigliere Biancani una settimana scorsa, un collegamento che si può vedere coinvolto il comune di Pesaro, il comune di Monbaroccio e il comune di Fano. C'è l'idea di sviluppare un progetto che sia legato più che altro al cicloturismo e alla pedalata del sabato e la domenica attraverso strade vicinali, strade private, strade comunali e che possano creare un percorso che collega i tre comuni, che sono comuni vicinissimi e che hanno un panorama straordinario per chi ama pedalare. Nel frattempo si è ragionato anche di un collegamento ciclabile dal Fenile fino a Santa Maria dell'Arzilla, Santa Maria dell'Arzilla che è comune di Pesaro, però dal punto di vista della ciclabilità si muove in pianura, è una leggerissima salita se deve andare verso Fano, mentre muoversi verso Pesaro diventa un pochino più complicato. Con la regione continua e andrà avanti, partirà il discorso del collegamento ciclabile che ci porterà da Pesaro fino a Borgo Santa Maria, un percorso che si svilupperà lungo l'argile del fiume fino a Galopatoio, poi attraverserà la strada urbinata per arrivare fino a Borgo Santa Maria, uno di quei collegamenti che i cittadini di Borgo si aspettano da tanto tempo e finalmente vediamo realizzati. Una delle esigenze che è venuta fuori è il famoso collegamento da Pesaro fino a Villa Ceccolini e oggettivamente dagli studi che abbiamo è un collegamento che dobbiamo prevedere lungo la Montella Battese con un costo di oltre 3 milioni di euro e pertanto ci stiamo preparando per riuscire in qualche modo a aggredire quei bandi che arrivano dall'Europa o dalla regione o da Roma ed essere pronti per poi aumentare il numero di chilometri ciclabili che la nostra città ha. Grazie. Grazie.